Facciamo un lavoro ben fatto dai! No, le portiere le portiamo a casa stasera. Ah no, prima di là. Adesso vediamo di quale portiere. E dai che ci siamo! Le portiere di qua! Finalmente! Finalmente! Però! Mancavano! Adesso se lo porta via le macchine, se lo porta via le macchine! Ehi, la macchina, lasciarle lì! E quello che costano! E qui? No, la preached! I cinti da, basta, ci sono solo! E qui? No, la sorggo! Ma, qua, qua, qua! Ma cosa che messe qui, testo le campi da la macchine? E qui? C'è, qui? C'è la porta via? C'è la porta via! C'è la porta via? I c'è la porta via! C'è la porta via! C'è la porta via! e ci stanno facendo dei treni adesso vediamo cosa scocita per togliersi da quella lì con situazione di sincastrato con l'auto attenzione al pubblico non vi avvicinate può capitare qualsiasi cosa prende la macchina attenzione al pubblico perché l'auto sicuramente avrà un arco di qualche metro mentre si sposta attenzioni è un'auto che si è affezionata a questo metro guarda la carreira vai via ecco va adesso è quasi un cabriolet andiamo a prenderci qualcosa dietro la forza di questo branch per la legna è veramente qualcosa esagerata di questo rezzo agricolo fantastico per il mondo della legna penso che riposizioni l'auto come era e poi ritorniamo alle nostre situazioni agonistiche dei trattori di quest'oggi grazie 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 vediamo se riesce a caricarla ha detto che la vuole tenere per l'assicurazione che vede i danni che sono stati fatti, molto bene ok a questo punto lo spettacolo del sindaco che ha fatto vedere che fine faranno le vostre auto quando daranno fastidio in doppia fila qui a Torre Vormida possiamo passare nuovamente al tratto cross molto bene e attentiamo Massimo, Massimo con la massima urgenza con la massima urgenza Grazie a tutti.